Ciao a tutti ragazzi, sono a Lorient. Dopo circa 36 ore di regata, vista la previsione meteo, ho preferito fermarmi in attesa di condizioni meteo più clementi. Sarei potuto andare e passare anche in mezzo alle forti depressioni che stanno arrivando, come avrei anche potuto rompere tutto e non arrivare mai in Guadalupe. Invece io in Guadalupe ci devo arrivare e appena la condizione meteo lo consente riparto. Spero sia stata la decisione giusta, comunque questa è stata la decisione che ho preso. Ciao a tutti e vi faccio sapere il prima possibile quel che succederà. Ciao.